E siamo di nuovo in diretta, come preannunciato, adesso ci occupiamo di un'altra soluzione che riguarda il mondo della tecnologia video, sì, ma oltre la tecnologia video, anzi oltre la security, quindi chissà con quale altre funzioni e applicazioni, così almeno dice il titolo dell'intervento di Ivan Piergallini, che è Sales Manager Italia e Iberia di Milestone Systems. Ivan, sei tra noi, mi vedi? Senti? Mi senti? Ivan, accendi il microfono. Dai, facciamo le brutte figure proprio alla fine. Oh, lo sento, lo sento a respirare. Buonasera a tutti. Ciao Ivan, perché tu sei già oltre la security, quindi hai tolto l'audio, tu sei una coppa. Assolutamente. Tu ormai stai oltre, sei alla telepatia, che secondo me… Perché ci hanno… no, siamo stati terrorizzati, spegnete tutti i microfono, mi raccomando, quindi adesso bisogna riaccenderlo. Vabbè, ma voi Milestone, poi questa graziosa parlata romana, andremo alla grande. Voi siete talmente oltre che ormai siamo, come dicevamo, alla telepatia che è la nuova frontiera della vera comunicazione. Allora, aspettiamo, non vediamo l'ora di sapere di cosa ci parli, poi lo commenteremo insieme. Se sei a posto, io ti lascerai direttamente la parola, Ivan. Perfetto. Ok, buon lavoro. Ciao. Grazie. Grazie a tutti di essere qui, buonasera a tutti. Sono Ivan Piergallini, come ha anticipato già Ilaria, sales manager per Italia, Spagna e Portogallo. Cercherò in breve, nel tempo che ci è concesso, di raccontarvi come la tecnologia del video può essere uno strumento di supporto non solo in ambito security fisica oggi, ma anche per altro. Come Milestone abbiamo impressa la nostra missione nel motto che noi sfoggiamo sempre, far sì che il mondo possa vedere, make the world see, ma come possiamo aiutare ad affrontare questa sfida con l'uso della tecnologia, dando supporto attivo nel prevenire, proteggere e mostrare le prove di quello che accade. Quindi questa è la nostra missione. Come lo facciamo? Lo facciamo con la nostra piattaforma che è X-Protect, che oggi è una delle soluzioni del leader di mercato, un software di gestione video in grado di assemblare pezzi diversi di un grande puzzle, che comunemente viene chiamato sistema di videosorveglianza. Come per qualsiasi puzzle, ogni singolo pezzo deve avere una posizione specifica, è quello che noi chiamiamo poi integrazione. Integrazione che oggi troviamo anche nei piccoli sistemi, fino a sistemi di grandi dimensioni come enterprise e distribuiti anche a livello globale, che possono gestire in maniera interconnessa device di ogni tipologia, che possono essere telecamere, sistemi di videoanalisi, sistemi di controllo accessi e anche IoT device oggi. Su architetture che possono essere classiche, quindi basate su soluzioni normali come hardware o anche in cloud, e l'abbiamo anche annunciato quest'anno una delle grandi novità della nuova nostra proposta, su Amazon Web Services, o anche in soluzioni ibride, grazie anche a soluzioni di un partner quale Arculs. Un compito oggi sempre più difficile, vista la complessità di tutti questi dati da gestire, che ci rende oggi il leader più di ieri, perché siamo rimasti veramente in pochi a fare un lavoro così specifico. Abbiamo noi, come Maison, la ricerca e sviluppo focalizzata esclusivamente alla ricerca della migliore piattaforma e migliori soluzioni in ambito VMS, per la gestione del video. Ivan, mandi, lanci le slide per cortesia. Le sto lanciando. E non le vediamo. Regia, lui le sta lanciando ma non le vediamo. Stiamo, eccole, ora le vediamo, scusami, si è disturbato. Ah, ok, quindi le altre non si vedevano? No, vabbè, comunque eri molto chiaro. Ah, ok, mi dispiace di questo. Ok, scusate, torniamo indietro. Ok, tramite una piattaforma che lo facciamo, quindi X-Project, è una piattaforma in grado di rispondere alle esigenze di oggi, ma anche di reagire a situazioni di imprevisto, quali ad esempio quella in cui ci siamo trovati quest'anno. Abbiamo visto come la nostra piattaforma, grazie a tutte le integrazioni che abbiamo e alle nuove integrazioni che siamo riusciti a implementare in una situazione d'emergenza, siamo riusciti ad offrire soluzioni e risposte in un periodo molto, molto particolare. Quindi senza che i clienti dovessero cambiare i loro sistemi, la loro piattaforma o trovare soluzioni ad hoc per rispondere all'emergenza. Abbiamo, come detto, grazie all'open platform, innumerevoli potenzialità di integrazione. Abbiamo anche lanciato il nostro marketplace, dove oggi sono presenti tutte le nostre soluzioni certificate e verificate, quindi è possibile consultarlo senza la necessità alcuna di password o login, quindi è aperto a tutti e si possono trovare e combinare anche le varie soluzioni. Una piattaforma sicura è Cyber Security Compliant, che anche nelle prossime release che stanno uscendo avranno importantissime e importantissime novità. Un sistema aperto vuol dire anche Compliant a tutti gli standard del settore, standard Onvif oggi rispondente a tutti i profili e Milestone si vanta di essere una piattaforma oggi che può rispondere a tutti i profili Onvif di questo tipo e sicuramente è un grande vantaggio perché ci permette di gestire tutti i device e i dati che arrivano in modalità standard e aperta. E' anche una piattaforma che tutela la privacy e lo facciamo ovviamente anche con una grado di certificazione importante. Milestone oggi offre una piattaforma che può garantire una certificazione anche GDPR ready fornita da un ente terzo di livello europeo, che è l'European Privacy Seal. Questo è un risultato molto importante, è un valore che portiamo ai nostri clienti perché è frutto di un lavoro non solo sul software e sulla soluzione, ma su tutti i processi aziendali. Tant'è che noi la certificazione che portiamo non è solo sul prodotto, ma è proprio su tutta la piattaforma che vuol dire la garanzia della gestione dei dati in modalità secondo la normativa, la garanzia che tutti i servizi associati al software rispettino, la normativa e anche la gestione ovviamente e la protezione dei dati. E quindi è un processo di certificazione che non si è fermato oggi, quindi non è fermo, ma è in continua evoluzione perché Milestone continuamente aggiorna i propri processi. ovviamente la videosorveglianza è diventata oggi da virtù a necessità per tutti i settori, lo vediamo ogni giorno di più, perché andiamo a sfruttare il video non solo per la sicurezza fisica, lo facciamo per esempio in ambito retail, utilizzando le tecnologie del video per supportare gli store manager, per supportare le grandi catene di negozi, per ottimizzare i flussi dei clienti, per gestire le loro aree commerciali, per garantire la security, la safety del personale e dei propri clienti, per gestire delle statistiche su determinate campagne. Quindi per il conteggio delle persone che entrano e che escono, addirittura anche alcuni per il controllo e la gestione anche della provenienza, controllando il cap di provenienza delle targhe nelle aree parcheggi. E quindi è un valore, aggiunto il video, sicuramente importante nell'ambito del retail e molto già presente. Nell'ambito del controllo dell'ambiente, Milsson ha lavorato con moltissimi enti pubblici e parchi per il controllo tramite il video degli animali, per verificare periodi di migrazioni, come facciamo in un parco in America, per la verifica degli orsi bianchi, o gli zoo per la verifica della sicurezza sia del personale che degli animali. Quindi è un ambito particolare, ma diverso dalla security anche sull'ambiente. In Nord Europa, adesso me ne viene in mente un altro, abbiamo realizzato il controllo delle colture di salmoni, addirittura in mare aperto, con sistemi particolari molto lontani dall'ambito della sicurezza fisica. Un ambito invece molto più vicino alla sicurezza e ovviamente al quotidiano in cui ci troviamo ogni giorno a lavorare è il controllo e la gestione del traffico, molto più sviluppato grazie al discorso delle smart city, ai progetti che ci hanno permesso di sviluppare la biosorveglianza nelle nostre città, e quindi tematiche un po' più vicino alle nostre già conoscenze quotidiane, ovvero la gestione del traffico, il controllo delle macchine, il discorso della classificazione dei veicoli in ingresso, la gestione anche di eventuali messaggi dell'integrazione con pannelli a messaggi variabili ed altro in ambito di smart city, come ad esempio pali intelligenti con sistemi multimediali integrati alla biosorveglianza e così via. Il building management anche per il controllo, ad esempio, della sicurezza degli edifici, l'integrazione con il controllo accessi per identificare e verificare chi entra in ogni momento, integrando anche eventuali sistemi di gestione del building, come il controllo del consumo della luce, il controllo di altri impianti speciali, quali impianti di condizionamento, il controllo di impianti anche degli ascensori e così via. Quindi anche qui un mondo abbastanza vicino alla sicurezza fisica, ma che si va a integrare anche con altri sistemi che prima erano mondi a sé stanti. La protezione dell'ambiente, anche qui vicino al discorso degli animali che facevamo prima, ma un settore comunque sia dove la biosorveglianza comincia a essere usata parecchio, come per le stazioni meteorologiche, come per il controllo delle aree marine e così via. Abbiamo fatto progetti molto importanti per il controllo delle aree marine, in collaborazione sia con enti statali di controllo come la Guardia Costiera, ma anche con enti che non fanno sicurezza ma si occupano di ambiente. Biosorveglianza a supporto delle emergenze, anche questo è un ambito dove il video sta entrando sempre di più, perché il controllo delle operazioni in situazioni critiche, la gestione del personale in situazioni di emergenza, anche sul campo con la comunicazione oggi non solo radio, non solo telefonica verso le centrali, ma con il supporto del video mobile, non solo con le telecamere sul posto, ma anche con video mobile, con delle body one camera degli agenti o di operatori che sono sul sito, ovviamente dà un contributo molto importante per la gestione di emergenze, perché rende esattamente l'idea all'operatore in centrale e a tutta la catena di gestione delle decisioni di prendere le decisioni corrette. Quindi parliamo esattamente come abbiamo iniziato, non solo di security come la intendiamo, ma proprio beyond security, ovvero oltre la sicurezza. Nel tempo che mi è rimasto vorrei parlare di due casi che abbiamo realizzato dove l'amministrazione, dove il nostro cliente non solo si preoccupava di realizzare un impianto di sicurezza, ma anche di dover integrare altri sistemi e di avere una piattaforma pronta anche per il futuro ad eventuali integrazioni che oggi magari sembrano lontane. Noi abbiamo iniziato con il progetto Smart Pompei insieme all'amministrazione del parco archeologico molti anni fa, quando delle tecnologie come il controllo dell'area attraverso droni o l'integrazione di sistemi come l'antintrusione con la videosorveglianza, il monitoraggio di altri sistemi tipo il monitoraggio sismico ed altro che si possono fare erano impensabili, sembravano molto lontane. Invece il parco si è voluto dotare di un sistema che permettesse quindi non solo l'integrazione delle preesistenti telecamere, quindi senza dover andare a verificare che tipologie di telecamere fossero, senza la necessità di dover fare un progetto anche per il cambio della tecnologia, prendere in carico quello che c'è e andare mano a mano a mettere sopra gli strati necessari. Ci è stato poi chiesto ovviamente di monitorare anche tramite altri sistemi di videoanalisi dedicata alla sicurezza del personale, la tutela ovviamente del patrimonio perché lo sentiamo tutti i giorni quello che succede nel parco, le persone che portano via pezzi di monumenti che si arrampicano in posti dove non devono andare eccetera, ovviamente anche qui interviene il sistema di videosorveglianza che allarma tramite dei sistemi intelligenti il personale che sta nelle varie aree di guardia e la centrale di controllo. Quindi non solo sicurezza fisica per il controllo del perimetro durante gli orari notturni, quando non ci sono visite eccetera, ma soprattutto di supporto alla centrale e alla sala regia esattamente quando il parco è aperto e ci sono i turisti. L'altro caso in cui esattamente possiamo mostrare un esempio di integrazione di più tecnologie anche non solo affini di security, ma per la gestione di particolari impianti, è quello dell'ente autonomo volturno, dove senza entrare nel dettaglio del progetto, ma dove con loro abbiamo realizzato, grazie a un loro progetto devo dire nato da loro esigenze specifiche, un progetto molto particolare di gestione e controllo dei passaggi a livello che non sono presenziati. È stato un progetto molto particolare perché le varie normative ovviamente non prevedevano la remotizzazione di impianti su IP, ma ovviamente delle normative molto stringenti con la presenza del personale e così via. Siamo riusciti, grazie al supporto proprio dell'utente, alla progettazione interna e di tutti i partner che hanno collaborato con noi nella realizzazione dell'infrastruttura, ad avere anche l'autorizzazione e la certificazione dell'ente dedicato, preposto del Ministero dei Trasporti a realizzare questo tipo di impianti, dove abbiamo non solo il video ovviamente che arriva in centrale dei sistemi, quindi per il controllo del passaggio a livello, ma l'integrazione della segnalazione audio che sta nel posto, quindi ovviamente anche con il ritorno dell'audio di quello che sta succedendo, l'integrazione dei citofoni, quindi comunque sia per eventuali segnalazioni di emergenza e comunicazioni verso la centrale, dei sistemi di videoanalisi che stanno a bordo camera, che comunque controllano il livello di attraversamento o meno, e di segnali derivanti da altri I.O. converter, quindi input e output che sono sul posto, che mandano altre segnalazioni e per le quali poi in sala controllo si possono prendere tutte le decisioni del caso. Quindi anche qui è un bel caso dove sono integrate moltissime soluzioni di diverse tecnologie, ovviamente tutte su P, e questo grazie proprio ad una piattaforma aperta che poi è sempre pronta anche un domani ad integrarne di nuove. Grazie, spero di essere stato nei tempi, mi spiace di aver saltato le prime slide, ma non ne avevo visione. Ivan sei stato chiarissimo, credimi che comunque eri esaustivo anche in questo modo, comunque le abbiamo poi riviste dopo, molto interessanti i case history che hai raccontato, un po' smart Pompei, sono un appassionato di Pompei, quindi benissimo che siamo riusciti, siate riusciti comunque a dare un contributo così importante ad un centro archeologico che ce ne invidia veramente tutto il mondo. Spesso purtroppo disastrato e in condizioni sicuramente non presentabili al mondo medesimo, mi ha colpito insomma alla fine, oltre beyond security, ma direi che insomma le funzionalità e le integrazioni sono limitate solo dalla fantasia, insomma si può andare avanti e sicuramente si andrà avanti, quindi conto molto sulla grande capacità di integrazione di Milestone che è sempre stato in questo un pioniere, visionario su tanti punti di vista e quindi voi make the world see, noi vogliamo fare parte di questo progetto, ricordo a tutti quanti che per tutti gli sponsor, quindi incluso Milestone, ma anche PITS, DEA, DEF, tutti quelli che hanno partecipato, tutti quanti, c'è la possibilità domani di prenotare un incontro, un meeting one to one, quindi se volete ulteriori approfondimenti e avete bisogno di parlare con Ivan o con chi preferite, Sex Solution Forum continua domani, una giornata interamente dedicata, premete il pulsante e prenotate il vostro meeting. Ivan io ti ringrazio, grazie a voi e adesso introduco il prossimo relatore, ciao Ivan, grazie.